Sento un salvatore faccio indirizzato quando la sera che avvena da volta l'ha ammazzata Quando la sera che avvena da volta l'ha ammazzata Un bacio per tutti questi buoni amici Allora lui, che ti dico? È stato un grande piacere essere tuo ospite Oggi sei un colpo ospite Senti, come si mangia qua, come si mangia Guarda, ho aumentato questo Agnello, Agnello, Agnello Ottimo, generissimo Fogo professionale Fogoці Non ci cerca l'altra, basta di morare non mi accadevina, basta di morare non mi accadevina, no, per far 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 si di meno. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.com Il nostro corso gratuito www.mesmerism.com Grazie a tutti! 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 Un saluto ai calabresi! Un saluto ai calabresi! Ma si presentano subito! Grazie! Grazie! Buona giornata! Grazie a tutti! 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 E io sono qui di Branca Leone! Perfetto! Ci vediamo dopo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!